Un piano antenne superato risalente al 2013 che non offre adeguati strumenti all'amministrazione comunale per gestire i progetti di installazione di nuovi impianti da parte delle società di telecomunicazioni. L'ultimo caso, quello dell'antenna 5G di Putignano, momentaneamente sospesa dopo l'avvio dei lavori tra le proteste dei residenti, ha fornito l'occasione al consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Luca Corona, per chiedere informazioni all'assessore di Buonaventura durante il question time. Il comune purtroppo ha un piano antenne vecchio, quindi parliamo del 2013, un piano che risale del 2013. Come sapete le tecnologie vanno avanti, giustamente, abbiamo frequenze diverse, abbiamo un 5G e quindi non dotarsi appunto di un piano antenne prettamente aggiornato con i tempi non è una cosa buona. Siamo venuti anche a sapere oggi appunto in questa interrogazione che c'è stato invece, l'amministrazione ha detto che non c'era stata nessuna interlocuzione. C'è stata l'interlocuzione dove il comune è mancato un po' di partecipazione verso i cittadini. Il fatto che il comune abbia questo piano antenne non aggiornato risalente al 2013, che cosa comporta, quali rischi comporta? Su terreni pubblici, quindi di proprietà del comune, ad oggi il comune non autorizza alla nascita di questi impianti, mentre sul privato basta una semplice comunicazione che il privato gestore delle antenne fa al comune, però il problema è che poi il comune non risponde, sono passati 30 giorni, non c'è stata risposta e quindi loro partono con i lavori. Non c'è condivisione.